Io credo che per quanto riguarda la tempistica di diagnosi ci sono stati alcuni problemi di sovraccarico e anche legati alla sperimentazione di nuovi modelli di processazione. Ma sono problemi in via di risoluzione, arriveremo rapidamente in questa settimana, io credo, ad avere un tempo perfettamente allineato con quello di diagnosi. Ci sono stati anche problemi per le scuole soprattutto. Sì, perché in particolare nelle scuole alcuni tamponi antigenici di nuova introduzione in alcuni laboratori aziendali hanno avuto dei problemi proprio di diagnosi di laboratorio, sono state necessarie delle ripetizioni in numero eccessivo e questo ha creato un imbuto, ma che ripeto è in via di superamento. Per quanto invece riguarda l'allineamento tra domanda e offerta, è evidente che se riusciamo a tenere la forbice chiusa è la cosa migliore, nel senso che laddove la nostra offerta che sta incrementandosi nei termini che diceva il collega Pasquini riuscisse a corrispondere alla domanda è la soluzione migliore. Dopodiché, se le dinamiche epidemiche attuali saranno confermate in futuro e quindi anche al netto degli effetti delle misure generali recentemente introdotte, che potranno essere, se nel caso, rafforzate, e si ponesse il problema di una scelta, di una selezione, è chiaro che questa scelta non va affidata al caso, o tantomeno alla presenza di canali particolari, quanto a una ragione medica e quindi dovremmo orientare quella di agnosi sulle persone più fragili e sulle persone sintomatiche. Quindi è un'ipotesi in questo momento remota, perché non siamo in questo contesto, ma laddove ci fossimo credo che sarebbe corretto operare con questi criteri. Grazie a tutti.